Siamo con Daniele Bennati al termine della sesta tappa, oggi protagonista con una lunga fuga, com'è andata? Sono contento perché comunque ci ho provato, non era facile arrivare in fondo, abbiamo fatto 48 di media. Per me non è stata una giornata facile perché per essere la prima gara stare fuori 150 km a questi ritmi non è facile. Per poco non sono riuscito a vincere, purtroppo il finale ero molto stanco, però è chiaro che Van Avermaet sulla carta non è più veloce di me, però sicuramente il periodo è più fresco. Io sono dovuto partire un po' lungo perché c'era un corridore agli ultimi 300 metri ancora davanti con 50 metri vantaggi, ho provato a partire ma ho calcolato un po' male le distanze, però pazienza.